Spuntini di teatro. Ho passato con mia moglie 33 anni. E posso dire che sono stati i migliori anni della mia vita. Non proprio i migliori, ma insomma. Sono trascorsi in un attimo felice. Che il diavolo se la porti? Dimentichiamo, darling, tutto ciò che non è accaduto fra di noi. E adesso che ci siamo ritrovati, cerchiamo di non perderci più. E viviamo come prima. E 1, 2, 3, 4. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 da. Do 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 da. Pam pam. Gigi.